Un saluto a tutti, l'argomento del video di oggi mi sta particolarmente a cuore perché riguarda un tema che ho seguito molto da vicino e sul quale ho partecipato alla stesura di tre pubblicazioni scientifiche. Ma prima di cominciare voglio ringraziare Daniele Giardino per avermi regalato Monstrum in storia di Ulisse Aldrovandi. Tornando a noi, oggi parleremo del tema zoologico più inflazionato dell'universo, cioè di lupi, ma visto che questo resta pur sempre il mio canale, si tratta di lupi diversi dagli altri e che erano stati letteralmente dimenticati da tutti sino a pochi anni fa. Cominciamo! Il lupo grigio, nome scientifico Canis lupus, è una specie ampiamente distribuita in attiva di numerose regioni euroasiatiche e americane. Attualmente ne sono state descritte almeno 45 sottospecie diverse delle quali considerate dubbie. Apro ora una parentesi il più veloce possibile su cose in zoologia vengono indicate come specie e sottospecie, ma per forza di cose sono costretto a riassumere il più possibile e non potrò essere preciso al 100%. Semplificando, diciamo comunque che i meccanismi fondamentali per la formazione di una specie sono considerati la selezione naturale, le mutazioni, la deriva genetica e il flusso genico. I primi tre processi evolutivi accumulano differenze genetiche e morfologiche in popolazioni isolate e lentamente in assenza di flusso genico, cioè di scambio di geni tra una popolazione e l'altra, le porta a isolamento riproduttivo e a speciazione. Vi è poi il concetto di sottospecie, che tradizionalmente indica popolazioni morfologicamente distinguibili all'interno della stessa specie, ma negli ultimi anni si è parlato anche di popolazioni di specie incipienti, non ancora sufficientemente distinte per essere considerate tali a tutti gli effetti. Va aggiunto poi che l'avvento della genetica, non dobbiamo infatti dimenticare che quando furono concepiti i primi concetti di specie e di sottospecie non si conosceva nemmeno l'esistenza del DNA, ha contribuito a sviluppare nuovi approcci. Quindi, riassumendo al massimo, una sottospecie di norma considerata tale si è geograficamente isolata e morfologicamente e geneticamente distinguibile da un'altra popolazione della stessa specie. Detto così potrebbe sembrare semplice, ma prima ho accennato al fatto che diverse sottospecie sono ritenute dubbie. Il motivo è che pur concordando in linea di massima sugli elementi che le caratterizzano, trovare una linea di demarcazione non è sempre semplice. Ad esempio, quanta differenza genetica e morfologica deve esserci per accettare una sottospecie? Su questo si dibatte da decenni e non mino oltre ulteriormente sulla cosa. Chiusa la parentesi, spostiamoci ora nel nostro appennino dove nel 1921 il medico naturalista Giuseppe Altobello scoprì che il lupo che lo abitava possedeva differenze anatomiche rispetto alle altre popolazioni europee e propose la nuova sottospecie Canis lupus italicus. Nonostante oggi sia però numerosissimo nel nostro paese, il lupo fu dichiarato protetto solo nel 1971, periodo in cui ne sopravvivevano forse meno di 100 esemplari in aree isolate dell'appennino centrale e meridionale. Dato che le prime ricerche scientifiche approfondite sulla specie coincisero proprio con questo periodo, furono incentrate soprattutto sulla sua salvaguardia ed etologia, trascurando enormemente gli aspetti tassonomici, cioè quelli relativi alla classificazione, al punto che ancora nel 2013 Ciucci e Boitani scrivevano gli studiosi oggi sono propensi a non considerare le popolazioni che vivono nell'area del Mediterraneo come sottospecie a parte. In realtà già dal 2002 era uscito un approfondito studio morfologico da parte di Novak e Federov, che avevano avvalorato le tesi di Altobello, ma comunque oggi la sottospecie Canis lupus italicus, anche grazie a un lavoro sulla genetica pubblicato nel 2017, è diffusamente accettata. A cosa mi riferivo però quando parlavo in apertura di lupi dimenticati? Al fatto che in Sicilia era presente l'unica popolazione insulare dell'area Mediterranea, oltre a una delle poche in tutto il mondo come ad esempio il lupo giapponese Canis lupus odophylax e quello di Hokkaido Canis lupus attai. La storia del lupo in Sicilia non è delle più felici, probabilmente mai troppo numerosa, la sua popolazione dovete far fronte alla drastica diminuzione degli ungulati, è una profonda crisi ambientale innescata sull'isola già dal 1200. Questo portò i lupi a predare il bestiame domestico creando conflitti con gli esseri umani, che li condussero all'estinzione in data incerta, ma probabilmente vicina al 1940. Forse proprio per il fatto che risultava già scomparsa quando in Italia si riprese a studiare il lupo, fu sempre ignorata e arbitrariamente accostata alla popolazione continentale. È in questo scenario che nel 2015 ricevetti una telefonata molto interessante. Dall'altra parte del ricevitore c'era l'ozoologo Francesco Maria Angelici che mi chiedeva cosa sapevo riguardo al lupo siciliano. La mia risposta fu che non ne sapevo nulla e mi illustrò un'idea che coltivavo ormai da tempo, quella di un'indagine morfologica e genetica sui pochissimi reperti ancora esistenti e conservati nei musei. Reperti tra l'altro molto poco conosciuti e dei quali all'epoca non esistevano nemmeno immagini chiare disponibili su internet. La sua curiosità però non nasceva dal nulla, ma da un elemento che lo aveva colpito. Una relazione del 1858 del naturalista Francesco Minapalumbo, che descriveva i lupi che aveva personalmente osservato e misurato in Sicilia. La cosa era interessante perché a quello che aveva riportato non sembrava sposarsi molto con il lupo dell'appennino. Per prima cosa le dimensioni da lui effettuate su sei esemplari erano inferiori e compatibili con quelle del lupo arabo, una delle più piccole sottospecie conosciute. Palumbo descriveva poi un altro dettaglio molto curioso, e cioè che il manto dei lupi siciliani era di colore lionato, in pratica simile a quello di un leone. Controllando nella bibliografia esistente scoprimo poi che un altro naturalista, Giuseppe Antonio Galvagni, nel 1837 aveva riportato misurazioni molto simili a quelle di Palumbo. Grazie all'appoggio di Riccardo Castiglia del Dipartimento di Biologia della Sapienza di Roma, dichiaratosi interessato a eseguire un'analisi del DNA di eventuali reperti, l'avventura sulle tracce del lupo siciliano poteva cominciare e la prima fase fu quella di andare a visionare, misurare e prelevare campioni degli esemplari custoditi nei musei. Attualmente questi reperti sono rappresentati da solo quattro individui adulti, tutti maschi, e due immaturi, custoditi presso la specola di Firenze, il Museo di Terrassini di Palermo, il Museo d'Oderland dell'Università di Palermo e il Museo Civico Baldassare Romano di Termini Merese. Per prima cosa decidemmo di recarci a Firenze. L'animale che ci troviamo davanti, grazie alla disponibilità dell'allora curatore della collezione dei mammiferi, Paolo Agnelli, era la vista molto particolare, piccolo, di un colore giallo chiaro e privo delle bande scure sugli avambracci che sono un po' il marchio di fabbrica dei lupi appenninici. Un conto sono però le prime impressioni e un conto sono le verifiche. Ad esempio le dimensioni potevano apparire così piccole perché si trattava di un esemplare giovane? Oppure male imbalsamato? Il colore poteva essere così chiaro perché in qualche modo la pelliccia dell'animale si era scolorita dopo un'esposizione di molti anni alla luce diretta? Cominciamo dalle dimensioni. In genere quando si vuole misurare un animale l'ideale sarebbe farlo su esemplari vivi o morti da poco perché per via del processo di imbalsamazione le dimensioni possono non corrispondere con quelle reali. Infatti i tassidermisti del passato tendevano spesso ad aumentare le dimensioni di un animale. Ad aumentare non certo diminuire, cosa che oltre a non essere altrettanto semplice è anche priva di senso. Va aggiunto comunque che parti anatomiche come ad esempio le orecchie non venivano mai alterate nelle dimensioni e sono da sempre ampiamente utilizzate in zoologia quando si effettuano misurazioni su reperti museali. Queste però erano nostre congetture e serviva una prova, prova che riuscimmo a procurarci immediatamente. Dell'esemplare custodito nel museo di Firenze era stato infatti conservato il cranio. Si trattava al 100% del cranio di un individuo adulto, quindi non di un giovane, ed era estremamente piccolo per un lupo appenninico, come si intuisce chiaramente da queste immagini comparative in cui è accostato al cranio di un lupo appenninico maschio e a quello di una femmina. Chiusa la questione di dimensioni, passiamo al colore e stabilire che non poteva essere dovuto a un processo avvenuto dopo la morte dell'animale fu abbastanza semplice. Per prima cosa il reperto non era mai stato esposto al pubblico e quindi conservato per decadi nel buio di un magazzino. Inoltre in genere la scoloritura degli animali tassidermizzati avviene maggiormente da un lato, quello più direttamente esposto alla luce, cosa che non era riscontrabile nel campione da noi esaminato, la cui colorazione risultava omogenea. Ma anche in questo caso oltre alle nostre congetture c'era una prova concreta, che ci fa capire l'importanza delle collezioni museali e dei cartellini che accompagnano ogni reperto. Infatti quel lupo arrivò al museo in data 1891 e l'allora direttore Enrico Giglioli, di cui avevo già parlato in uno dei miei primissimi video che lascio in scheda, scrisse personalmente queste considerazioni. Esemplare mirabilissimo per le sue piccole dimensioni, il colore giallo chiaro della pelliccia e l'assenza di strisce nere lungo gli avambracci. L'animale era stato abbattuto in località Vicari, provincia di Palermo, non molti anni prima e quindi potevamo affermare molto serenamente che il lupo della specola non era né scolorito né rimpicciolito, ma che era così anche da vivo e corrispondeva in tutti i dettagli alle descrizioni dei lupi siciliani lasciateci dagli zoologi del 1800. A questo punto la curiosità di esaminare i reperti di individui adulti degli altri musei era aumentata considerevolmente e ora ve li mostro. Questo è il lupo custodito al museo regionale di Terrassini, questo quello custodito presso il museo d'Oderlein di Palermo e questo quello custodito al museo baldassare romano di termini merese. Sono tutti caratterizzati da piccole dimensioni, colorazione chiara tendente al giallo e assenza o minimo accenno di banda nera sugli avambracci. Una volta prelevati i campioni cominciarono le indagini in ambito genetico, ma il materiale era talmente degradato che si resero necessari i protocolli utilizzati per l'estrazione del cosiddetto DNA antico. A venirci incontro fu Elisabetta Cilli del Laboratorio di Antropologia Fisica e DNA Antico dell'Università di Bologna, con la quale torniamo in Sicilia a riprelevare campioni. I primi incoraggianti risultati preliminari furono annunciati durante un convegno che si tenne nel mese di novembre del 2016, ma sulla genetica torneremo in seguito. Successivamente nel 2018 Angelici e io descrivemo principalmente su base morfologica la nuova sottospecie Canis lupus cristaldi, dedicandola al professore di zoologia di origini siciliane Mauro Cristaldi, scomparso nel 2016. Questo lavoro lo lascio in descrizione per essere liberamente consultato e anche perché in fondo ci sono tutti i nomi delle persone che ci hanno aiutato e che non posso citare una per una. Mi limito quindi a ricordare Agatino Maurizio Siracusa per averci fornito informazioni storiche recenti e quella che è oggi probabilmente l'unica fotografia esistente di un lupo siciliano in vita, tenuto in cattività nel 1897. Il tassonomo spartaco Gippoliti, il paleontologo Raffaele Sardella e il mammologo Ronald Pines per i consigli in fase di stesura dell'articolo. La nostra idea per spiegare le differenze morfologiche riscontrabili sui lupi siciliani chiamava in causa l'isolamento dalla popolazione continentale, durato come minimo almeno 20.000 anni. In quella data scomparve infatti l'ultimo ponte di terra conosciuto che collegava la Calabria con la Sicilia. Mi preme a questo punto sottolineare una cosa. È vero che alcune popolazioni di lupi sono più propense al nuoto di altre, come ad esempio i lupi dell'isola di Vancouver, ma ipotizzare da questo che i lupi siano giunti in Sicilia attraversando lo stretto di Messina in numero sufficiente per stabilirvi una popolazione è pura fantascienza. L'anno seguente uscì anche il lavoro finale relativo alla prima indagine genetica, che prendeva in esame 57 basi di DNA mitocondriale e che dimostrava nei campioni la presenza di un aplotipo lupino mai documentato prima di allora, che ritenemmo potesse essere frutto di mutazioni avvenute sull'isola. Concedendomi l'ennesima semplificazione, per aplotipo si intendono una serie di varianti genetiche che vengono passate in blocco per linea matriarcale, di generazione in generazione. Alla fine di questo lavoro, cui prese parte anche Ispra, le nostre conclusioni furono che, in accordo con il suo isolamento, le differenze morfologiche e l'identità genetica, suggeriamo che il lupo siciliano possa essere considerato una sottospecie valida, così come i recenti studi tendono a confermare per le altre popolazioni insulari della specie. Ma poco dopo successe una cosa buffa. Interessata alla cosa, l'Università di Catania aveva organizzato un seminario, annunciato con mesi di anticipo dal titolo Il Lupo di Sicilia, un endemismo dimenticato e scomparso, al quale fu invitato come relatore anche Francesco Maria Angelici. Ebbene, questo seminario era previsto in data 21 giugno 2019, ma a pochi giorni dall'evento l'Università di Palermo annunciò un convegno dal titolo Il Lupo Siciliano, che si svolse esattamente il 20 giugno, un giorno prima di quello che era stato annunciato da tempo. Immagino che parlando di lupi, qualcuno avesse voluto marcare un po' il territorio. È comunque interessante notare come riguardo a lupi, dei quali fino a ieri l'altro e non si era mai interessato nessuno, adesso chiunque voleva dire la sua. Dal convegno dell'Università di Palermo fu anche pubblicato un libretto contenente gli interventi dei partecipanti. E va detto che al suo interno sono presenti considerazioni estremamente superficiali che forse potevano essere anche evitate. Cito ad esempio dall'articolo I carnivori olocenici della Sicilia di Marco Masseti, nel tentativo di istituire una sottospecie siciliana, ad angelici e rossi è forse sfuggito il fatto che le dimensioni di un esemplare naturalizzato dipendono essenzialmente dalle capacità del preparatore di manipolarne la pelle, e che dopo tanti anni dal momento della sua naturalizzazione e soprattutto esposizione al meraviglioso sole siciliano, anche la pelliccia più scura tende inesorabilmente a schiarirsi. Altra cosa curiosa e per me difficilmente comprensibile è come alcuni anni dopo, in data 5 ottobre 2022, la pagina Facebook del Museo di Teologia di Palermo scrisse un post in cui si affermava che il lupo presente nelle collezioni apparteneva alla stessa sottospecie del lupo penninico, Canis lupus italicus. Comunque ogni posizione può cambiare in base alle scoperte che si accumulano mano a mano e per quanto riguarda il lupo siciliano, oggi qualcosina in più la possiamo dire. Grazie a Marta Maria Ciucani allo studio di parte del DNA mitocondriale ne ha infatti seguito uno più esteso cui ha preso parte tra gli altri anche Thomas Gilbert dell'Università di Copenaghen, tra i massimi esperti di DNA a livello mondiale. Ciucani e il suo team sono riusciti a recuperare dai campioni dei genomi completi, quindi sia l'intero DNA nucleare che quello mitocondriale, e i risultati mostrano una separazione netta a livello genetico della popolazione siciliana rispetto a quelle di tutti gli altri lupi. Ma le cose si fanno ancora più interessanti andando ad indagare l'origine di questa popolazione. Tra tutti i lupi del mondo, quelli più vicini al lupo siciliano sono i lupi appenninici, cosa che non sorprende e che sposa il modello che avevamo già teorizzato nei lavori precedenti. Ma il lupo siciliano possiede anche una peculiarità che oggi non era mai stata documentata in nessun'altra popolazione di lupi al mondo. In biologia esiste un fenomeno conosciuto come commistione genetica, che avviene tra due popolazioni quando vengono meno le barriere fisiche che le dividono. Facciamo finta ad esempio che i lupi siano ancora presenti in Sicilia e che il mare si congeli, permettendo il passaggio di lupi dalla Calabria e viceversa. Tra le due popolazioni che appartenendo alla stessa specie sono interfeconde ci sarà così un passaggio di geni. Quando però parliamo di lupi non dobbiamo tenere in considerazione soltanto le barriere geografiche. Almeno per quanto ne sappiamo oggi rappresentano infatti la prima specie domesticata dall'uomo. Domesticazione che come sappiamo ha dato origine ai cani. Quando questi eventi di domesticazione sono avvenuti dove e in quante occasioni resta ancora altamente dibattuto. Ma considerando la profonda relazione che ha unito uomini e lupi nel corso della storia e la condivisione di vaste zone di areale, il passaggio di geni tra lupo e cane è una caratteristica comune nella storia evolutiva della specie. Un esempio sono i singoli individui di lupi neri che nascono ogni tanto anche in Italia, la cui colorazione del manto è dovuta alla mutazione di un gene trasmesso proprio dai cani. Così, per quanto riguarda il lupo siciliano, il risultato più importante di questo nuovo studio è che, tra tutte le popolazioni estinte o ancora presenti di lupo che sono state studiate geneticamente sino ad oggi, è l'unica a presentare un'affinità genetica con gli antichi cani europei che si estinsero tra i 3000 e i 4000 anni fa. Abbiamo così ipotizzato che l'isolamento, combinato alla piccola dimensione della popolazione di lupi e all'introduzione dei primi cani in Sicilia, possa avere fornito un terreno fertile per l'introgressione, cioè l'incorporazione di geni da un gruppo geneticamente distinto e il mantenimento dell'antica ascendenza canina nel lupo siciliano. Questi risultati, oltre ad essere molto interessanti, hanno anche fatto cambiare qualche punto di vista. Infatti, in una recentissima pubblicazione, cui tra gli autori figurano anche Sabrina Lobrutto del Museo di Zoologia di Palermo e Maurizio Sarà dell'Università di Palermo, è dedicata alle collezioni presenti nel sopraccitato museo, l'esemplare di lupo siciliano è stato riportato in qualità di sottospecie regionale endemica e geneticamente divergente. E anche per questa volta ho concluso, spero che il video vi sia piaciuto e vi invito a lasciare un like e un commento. Se vi va seguitemi anche su Instagram e Telegram e iscrivetevi al canale spuntando anche la campanellina per restare sempre aggiornati. Ricordi infine che è possibile supportare il canale attraverso Tipeee per il raggiungimento di 3 video al mese e per chattare insieme su questi argomenti. Questa volta non vi saluto come al solito perché ho uno strappo alla schiena e ho un dolore atroce, quindi ciao! Grazie! 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 Grazie!